Nel corso mi è piaciuto tutto, è stato molto di più di quello che immaginavo, pur conoscendo Patrizia già prima, quindi immaginavo già tanto, ma è stato ancora molto molto di più. Lo consiglierei perché è il metodo il più semplice che io abbia conosciuto in 30 anni di corsi che faccio. È il più semplice, è il più potente, è straordinario, è terza aerea, io continuo a dire che è terza aerea, perché quello è... ho lasciato andare tutto, di tutto di più che non pensavo, ma neanche in tre anni avrei fatto tre, quattro anni di percorsi, ma forse non avrei mai ottenuto tutto quello che ho ottenuto in questi tre giorni, veramente tutto, tutto, tutto e ho ottenuto delle cose che si possono fare in tre anni di lavoro, ma noi li abbiamo fatti in tre giorni, vedete voi. Grazie. Io non so come fare a dire grazie, non esiste, cioè questa parola è piccola per Patrizia, è piccola, questa viene da un altro pianeta. Ragazzi, è straordinaria Patrizia, straordinaria.